Una legge regionale che valorizza i 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo, che sarà un filo conduttore nelle varie anime del parco, quindi toccheremo diversi comuni per valorizzare questa peculiarità tutta abruzzese. Per anni il nostro parco d'Abruzzo è stato il simbolo della nostra regione, l'Orso Marsicano è stato l'emblema dell'Abruzzo e quindi noi vogliamo valorizzarlo in questo centenario. Oggi incontriamo le comunità che sono all'estero nel parlare di parco, identità, appartenenza, perché questi comuni hanno anche dato negli anni passati tanto all'emigrazione. Invece noi vogliamo valorizzare e rivalorizzare nell'anno 2024, che è l'anno delle radici, anche questo tema, partendo dal centenario del parco per agganciarci al tema delle radici.